Ciao, sono Federica, vengo da Torino e studio relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa presso l'Ulm di Milano. Sono arrivata qui con forza al stato ottobre, sono stata qui per tre mesi e ho effettuato uno stage presso un'azienda che importa arredamento di lusso in tutta la Cina. La cosa più stimolante dell'ambiente lavorativo a Shanghai per me è stata l'enorme responsabilità che mi hanno dato sin dall'inizio, sin dal primo giorno in cui sono entrata a contatto con questa realtà per me completamente nuova. È stato molto difficile inizialmente relazionarmi con i cinesi a causa della grossa barriera linguistica che c'è tra il mondo occidentale e il mondo orientale. Ho imparato un po' di cinese grazie a For Start che ci ha organizzato un training linguistico. Le prime due settimane arrivate qua a Shanghai sono andate a scuola tutti i giorni, mentre per il resto dei miei tre mesi andavo a lezioni una volta alla settimana. Non ho ancora progetti lavorativi una volta tornato in Italia perché devo ancora finire il mio percorso di studi, però grazie a questa esperienza sono riuscita a focalizzare i miei interessi per il futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.